Eccoci qui ragazzi con un nuovo video, Luca Like, come vedete in sovraimpressione Anche da titolo andiamo a parlare di Sadio Mané, passato al Bayern Monaco Vedete la gigantografia qui vicino a me, scontornata in formato PNG E comunque è molto molto fedele poi al bot che abbiamo ricreato all'interno del Pro Club Un giocatore pazzesco, un ala comunque che riesce a saltarti facilmente, velocemente È ambidestro, quindi segna sia di destro che di sinistro Sa fare la prima punta anche, la seconda punta insomma è un attaccante totale Che giocherebbe ovviamente in qualsiasi squadra titolare Perché è un attaccante veramente completo Quindi adesso spegniamo la gigantografia che è qui vicino a me Che ovviamente è stata importante per essere il riferimento E adesso andiamo a vedere invece in game Cosa accade? Allora andiamo a vedere le info, sono la prima cosa da testare Nome Sadio, cognome Mané Conosciuto come Mané ovviamente Senegalese, 92 Quindi comunque una età avanzata Poco più grande di me Altezza peso 1,75 x 70 kg Andiamo a vedere poi la posizione attaccante destro Ma anche sinistro, anche centrale Questo dipende molto da voi Piede preferito destro Iniziamo dalla numero 3 E andiamo del volto a selezionare anche tono e carnagione Ovviamente sezione un po' più scura E il tono è proprio questo Numero 2 della riga 3 Quindi questa è la selection Andiamo a vedere adesso quella che è la parte degli occhi Selection numero praticamente 5 della riga 2 Oppure andata alla fine ed è la quart'ultima Transforma E vedete che comunque cambia qualcosa rispetto al default Sinistra c'è per entrambi sia posizione sia sporgenza e palpebre Solo che c'è un po' più in giù per le dimensioni Comunque il colore è importante Mettete questo bordeaux marrone scuro Mi raccomando Per quanto riguarda la sezione successiva Che è quella delle sopracciglia La selection numero 1 Riga 1 Andiamo su della Transforma Posizione e separazione a sinistra Quindi lontano e giù Sporgenza e rotazione dentro e giù Colore molto molto scuro Andiamo a vedere poi la selection per il naso Non potete sbagliare perché rimaniamo sulla riga 1 La selection è l'ultima E andiamo sulla Transforma Tutto tutto verso in alto Solo che posizioni e dimensioni ovviamente grande e nel su Sporgenza e osso nasale Invece a sinistra e quindi grande e dentro Andiamo a vedere poi la sezione successiva Che è quella della bocca Ed è praticamente vedete il quadrante penultimo della seconda riga Possiamo accedere al Transforma E vedere come abbiamo impostato del tutto Dimensioni in bocca grandi e grandi Posizione e sporgenza Fuori e su Per quanto riguarda poi invece le guance e la mascella La selection è la prima che notate E poi il Transforma è legato molto ovviamente Alle guance che è tutto riversato in giù La mascella che è su e sottile Ma soprattutto per la pienezza Ricordate che questo è un fattore importantissimo Dovete metterlo così Verso il più Verso destra Adesso andiamo a vedere il mento Mento che qualifica ovviamente la parte Questa qui Frontale bassa Ed è importantissimo perché Sul Transforma di quella selection Andiamo su piccole piccole per le dimensioni Per quanto riguarda sporgenza e pienezza Piccole e in fuori Copiate mi raccomando Mi raccomando Orecchie La selection è l'ultima In questo caso andiamo sul Transforma Vedete che Le dimensioni sotto comunque sono normali Lobby e sporgenza comunque molto simile al default E le inclinazioni dritte La selection invece per quanto riguarda i capelli corti Ci sono varie possibilità Però secondo noi la migliore È la prima della riga 2 Poi ci sono altre possibilità come questa Però insomma Non vengono caratterizzati bene i capelli Secondo noi La possibilità migliore è proprio questa Colore scuro Quindi questo nero praticamente O marrone quasi tendente al nero Per quanto riguarda i baffi Barbetta o mettiamo questa O mettiamo questa Tutte possibilità di avere una barba Proprio veramente quasi Impossibili da vedere Quasi invisibile Altrimenti mettiamo ovviamente Direttamente senza barba E risolviamo il discorso Poi Ultima selezione Che è quella della corsa Ed eccola qui Abbiamo scelto Arquata All'indietro Proprio per lui Secondo noi È la selezione migliore Per Sadio Ragazzi Per questo video abbiamo terminato Spero che vi sia garbato E non vi dimenticate Di mettere like qui sotto E attivare la campanellina Perché usciranno questi tipi di video Ma anche altri tipi Quindi Ragazzuoli Attendo la vostra interazione La vostra condivisione E ci salutiamo Un salutone Da Johnny Ciao